Buongiorno ragazzi, sono Giona e sento di dover cambiare il sistema tradizionale di formazione e so che dobbiamo farlo insieme. Il mondo sta cambiando ad una velocità esponenziale, saremo nomadi in futuro perché viaggiare sarà più veloce, sicuro ed economico. Collaboreremo con i robot, noi la mente e loro le braccia per adesso. Vivremo più a lungo in salute in un mondo più ego e più pulito. Ma per far sì che questo cambiamento avvenga, per far sì che questa visione si realizzi, c'è bisogno del contributo di ogni essere umano. Tutto il nostro potenziale va a sprigionare. E per questo denuncio un sistema di formazione tradizionale obsoleto, a nome di tutti quegli studenti come me che si sentono aspissiati, poco stimolati e fuori luogo nel contesto attuale delle università. E vogliamo offrire un'opportunità, una scelta alternativa a chiunque sia affamato e curioso, a chi prova sempre a cambiare ciò che non funziona e costruisce ciò che non ha. Noi pirati, considerato che possiamo reperire ogni sorta di informazione online, immaginate di intraprendere il percorso di formazione superiore scegliendo liberamente cosa studiare e delineando così un percorso disegnato su misura per voi, dalla matematica all'economia alla psicologia, perché ogni tassello che compone il mosaico della formazione è di fondamentale importanza. Pensate adesso di poter studiare ovunque nel mondo, con persone con cui condividere ambizioni, scoperte, difficoltà e conoscenze. Rintracciare queste persone tramite una rete online per poi conoscerle nella realtà. Altri pirati, nuovi mari. Quindi una relazione orizzontale che presuppone quella verticale con tutor, mentor, promotore ed educatori. Ragazzi dai vent'anni in su desiderosi e capaci di condividere conoscenze e insegnare, e che sicuramente hanno tanta voglia di imparare. Vogliamo creare un mondo in cui la conoscenza sia libera di fuire tra le persone, e non più racchiusa e formalizzata in aule, banchi e docenti. Questo è il futuro, non un sogno, e non basta un video per raccontarvi. Ecco perché vi chiedo il massimo contributo. Continuate a seguirci e se pensate che questa visione vi appartenga allora fatevi avanti. Io adoro il massimo. Grazie a tutti.